L'Italia Revisore Revisore Tutti parlano di digitale. Mai come negli ultimi anni si è parlato di digitalizzare l'Italia. Si è parlato di Industria 4.0. Si è parlato di trasformazione digitale. Abbiamo un team per la trasformazione digitale a Palazzo Chigi. Abbiamo un'agenzia governativa che si occupa di digitalizzare, di semplificare la pubblica amministrazione, le imprese, i servizi ai cittadini. È un tema mainstream. Non era mai successo, forse. Nella mia esperienza, negli ultimi anni, se ne è parlato tantissimo. E poi succede qualcosa. A un certo punto, due settimane fa, esce il DESI 2018. Digital Economic and Society Index, che la Comunità Europea rilascia e che misura lo stato di avanzamento digitale dei Paesi, dell'Unione. E l'Italia è ferma lì. Quart'ultima. Prima di Bulgaria, Grecia, Romania. E allora uno si chiede, ma cosa stiamo sbagliando? Se stiamo sbagliando qualcosa, come facciamo a migliorare il percorso di digitalizzazione del nostro Paese, che ha delle potenzialità straordinarie? Girando l'Europa, capisci come l'Italia può essere il leader della digitalizzazione. Abbiamo tutte le competenze, il know-how, le relazioni, la visione per guidare l'Europa, eppure poi nei numeri non ci riusciamo. Ecco, oggi parliamo di questo e ne parliamo a Trieste. Perché a Trieste? Perché a Trieste qualche passo in avanti l'abbiamo fatto negli ultimi anni. Il Fiuli Venezia Giulia si è candidato ad essere una regione digitale e ha fatto un percorso negli ultimi anni legato molto al percorso della sua società in-house di informatica in Siel. Tre anni e mezzo fa siamo partiti con un percorso di trasformazione da software house a service provider e oggi in Siel eroga servizi molto innovativi di connettività in fibra ottica attraverso un sistema di data center, attraverso servizi applicativi alla regione, agli enti locali e alla sanità del Fiuli Venezia Giulia. È la stessa società che guida il comparto delle società in-house che fanno informatica in Italia. Abbiamo la presidenza di Assinter, l'associazione che le riunisce tutte quante. Abbiamo anche la vicepresidenza del network di IT Service Provider Europei, Euritas. Abbiamo anche fatto partire un percorso di collaborazione federata tra le nostre aziende che mette insieme quelle del Fiuli Venezia Giulia, quelle dell'Emilia Romagna e della provincia autonoma di Trento in una collaborazione che, prima di tutto, è una collaborazione culturale, di competenze. Allora siamo qui a raccontarlo perché abbiamo usato degli strumenti per farlo, molto semplici. Governance, innovazione, procurement, collaborazione. E sono esattamente i temi su cui oggi pomeriggio ci confronteremo. Governance, Chiara, la Regione Fiuli Venezia Giulia ha deciso di investire sul digitale. Ha detto che INSEEL è il partner tecnologico che guiderà questa trasformazione. Fatelo voi. Fatelo bene perché sapete farlo. Abbiamo cercato di portare l'innovazione, la frontiera dell'innovazione digitale dentro processi, dentro la tecnologia, a beneficio delle persone. Abbiamo guidato l'innovazione. Scontrandoci però con un mondo che è un mondo fatto di regole. Molto spesso è un mondo fatto di carta, più che di digitale. Un mondo con delle regole di procurement, di acquisto, che tutti noi viviamo come molto complicate. Non sono fatte per permettere all'innovazione di entrare all'interno della pubblica amministrazione. Noi le abbiamo interpretate. Abbiamo cercato di capire qual era lo strumento migliore per fare il cambiamento. Come? Collaborando. Con i privati. Oggi, qui in sala, ci sono le aziende che hanno fatto il successo di INSEEL. Partner industriali che hanno sposato il nostro disegno di visione strategica e ci hanno permesso di realizzarlo. Allora, ultimamente sento parlare molto di di ci serve un ministro del digitale. Abbiamo bisogno di un sottosegretario all'innovazione. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia la strada, che ci indichi la rotta da seguire a livello governativo. Forse non ci siamo però resi conto che noi tutti siamo una comunità di innovatori. Oggi qui c'è rappresentata la pubblica amministrazione, la politica. C'è rappresentato il settore delle industrie private. Ci sono cittadini. C'è la sanità. Noi siamo una comunità. Io vi dico, noi siamo il ministro. Ognuno di noi ha un nodo della rete che può fare il cambiamento. e se tutti noi insieme collaboriamo avendo una governance chiara, puntando a portare l'innovazione dentro la pubblica amministrazione, utilizzando le regole e gli strumenti che ci sono e magari aiutando a migliorarli e collaborando l'uno con l'altro, io sono convinto assolutamente che l'Italia potrà essere protagonista in Europa. Quindi io vi auguro un buon pomeriggio e benvenuti a State of the Net. Grazie. Grazie.